Una settimana esatta termina l'edizione zero del festival Linosart, ma noi ancora continuiamo a Linosa perché è restata, Linosa continua e il festival continua ancora perché già ci stiamo progettando per l'edizione 1. Sono andati via tutti o quasi tutti, ma abbiamo ancora un pezzo, la grande coreografa che per la finale ha dato il meglio di sé. Puoi dare un messaggio di saluto a chi già ha messo il maglione? A chi già ha messo il maglione promettiamo che l'anno prossimo faremo magari anche qualche giorno più di festival e che li aspettiamo almeno il 12-13 settembre, anche se il festival sarà già finito perché cosa merita veramente. E poi abbiamo ancora Tiziana dell'Associazione Tempuniuro, ecco Tiziana, oggi festeggiamo tutti, ricordiamo la settimana del festival e salutiamo anche Fabio Sanfilippo che è andato via, il suo organizzatore, Antonio e tutti gli artisti che hanno partecipato. Ciao a tutti voi che siete andati via qui. E poi con noi si è unito anche un ragazzo, arriva da Cantù, appena saputo del festival è arrivato con noi e si è unito perché qua siamo tutti una grande famiglia, dall'estremo nord all'estremo sud. Ci facciamo un bel bagno? Ecco, intanto vi mostro dove siamo. Siamo in una zona che si chiama Isularelli vicino al Faro. Cosa facciamo? Faccio un tuffo con voi? Adesso le faccio uncero. Adesso è uscito. Adesso? All right! All right. All right. So? All right. All right. come dicevo da settimana che il festival è finito ma abbiamo il poste festival ci viene a trovare qua in questa cala Orazio da Lampedusa, chissà il prossimo anno ce l'abbiamo con il suo oculele e tanti già l'hanno conosciuto per Youtube se volete trovare dove possono trovare la tua musica? su Youtube, Orazio Giammola Orazio Giammola su Youtube, col tuo oculele va bene, e questo è anche il dopo festival di Alinosart, chissà il prossimo anno abbiamo anche Orazio tra di noi una buona domenica, ciao